Contro l'aborto clandestino, lo sterminio causato dalla fame, i soprusi del fondamentalismo, Emma Cera. Con i primi malati di AIDS, con i detenuti nel braccio della morte, Emma Cera. Come commissario europeo, lotta per i diritti umani, in Thailandia, in Macedonia, in Mali, in Guinea, in Sierra Leone, in Afghanistan, Emma Cera. Ma io ci sono.